Forse non sarà semplice, ma non è impossibile. A 200 anni dalla morte di Giovan Battista Belzoni, il 3 dicembre 1823, a Guan, nell'attuale Nigeria, dove stava partendo per un altro avventuroso viaggio alla scoperta delle sorgenti del fiume Niger, c'è chi propone di organizzare una spedizione con a capo l'università per andare alla ricerca della sua tomba. Ugo Silvello, dirigente scolastico in pensione, 66enne e studioso della storia locale, è convinto che la descrizione del luogo lasciata dall'esploratore britannico Richard Francis Barton, una sepoltura a due metri di profondità all'ombra di una grande pianta vicino alla costa, sia sufficiente per provarci. La missione in Niger è contemplata? Lì c'è la palma, quella piccola palma nasconde appunto il corpo di Belzoni. Belzoni lo racconta il capitano inglese che lo portò quando lui andava alla ricerca a Timbuktu delle foci del Niger. Molti prima di lui erano morti nell'impresa. Belzoni ebbe febbre malarica di senteria, morì e il capitano inglese ci racconta che sotto la palma c'era una tavola di legno con un omaggio al grande Belzoni, ma nella palma non c'è più, non c'è più l'iscrizione in legno, purtroppo non era una tomba in pietra, quindi io applaudo alla volontà di coloro che oggi vogliono mettersi metaforicamente sulle tracce di Belzoni alla ricerca del suo corpo, ma penso che sia questa sì, ahimè, non un'impresa impossibile belzoniana, ma un'impresa decisamente impossibile, però ben venga questo affascinamento, questa affascinazione, questa volontà di andare a cercare il corpo di Belzoni che è un po' metafora per dire andiamo a cercare come padovani, come italiani, un pezzo della nostra storia. Ha fatto scalpore questa storia al punto che qualcuno vuole mettersi sulle tracce della sua ultima avventura in Niger. Sì, sarebbe molto bello e forse chi ha avuto la possibilità di conoscere il personaggio Belzoni ha pensato in cuor suo che sarebbe bello riportarlo a casa, chissà se poi Belzoni avrebbe voluto essere sepolto a Padova, ecco il fatto che sia morto in questo mondo così lontano che all'epoca era il regno del Benin, ci fa capire che lui in realtà è quello che voleva fare, quindi è morto facendo una cosa che aveva scelto di fare, che era una sfida difficile e che quella volta non è andata a buon fine. Tecnicamente non penso sia facile andare a recuperare le ossa di Belzoni che chissà esattamente dove sono, però noi non diciamo nulla, lasciamo tutte le strade aperte e tutte le possibilità.